Ciao ragazze e ciao ragazzi, questo è un video di risposta a quel post che sta facendo un polverone su tutti i social, che è il post di Mirna Herzog, la violista che si è trovata con il suo strumento distrutto dopo un volo con Alitalia. Perché ne voglio parlare se ne stanno parlando tutti? Perché secondo me si alzano tanti polveroni, ma per cose sbagliate, come ad esempio il parlare fino allo sfinimento dei sacchetti da due centesimi e non parlare del rialzo delle bollette di acqua, luce, gas, di qualsiasi cosa che ci costa molto di più di quei due centesimi, però nessuno dice niente. Comunque, tornando a noi, analizzeremo il caso in maniera oggettiva cercando di farci un'idea dopo aver considerato tutte le opzioni. Chi segue il mio canale già lo sa, invece per chi apre per la prima volta un mio video, io sono una cantante. Essendo nel mondo della musica, la maggior parte dei miei amici su Facebook sono musicisti e quindi è da giorni che mi rimbalza e rimbalza in bacheca questo post sulla violista israeliana che avrebbe ritrovato la sua viola del 600 distrutta dopo un volo con l'Italia. Come spesso succede, ho letto giudizi di persone che o parlano a banvera oppure leggono solo il titolo senza leggere l'articolo, oppure considerano soltanto un punto di vista. Partiamo quindi dall'inizio. Chi è la violista di cui stiamo parlando? Stiamo parlando di Mirna Herzog, musicista di fama internazionale e direttrice dell'Ensemble Phoenix. È nata nel 1951 a Rio de Janeiro e si è trasferita in Israele nel 1992. È una violista che fa concerti in tutto il mondo, fino ad ora ha suonato in oltre 24 paesi e questo ricordatevi per quello che diremo dopo. Ha un dottorato in musica e insegna al Conservatorio di Tel Aviv. Di che strumento stiamo parlando? Perché non tutti sanno cos'è una viola da gamba. Stiamo parlando di una viola da gamba Lewis del 1600 e anche questo tenetelo a mente. La viola da gamba è uno strumento simile al violino, è un po' più grande del violino, ma è più piccolo del violoncello e del contrabbasso. Si distingue dalla viola e si chiama appunto viola da gamba perché per suonarla c'è bisogno di poggiarla sia a terra sia alla gamba di chi sta suonando, dello strumentista. È uno strumento molto molto bello e affascinante che si usava nell'epoca del rinascimento e del barocco. Ora se voi volete acquistare una viola dei giorni nostri andate a cercare su google quanto costa e vi rendete conto che non è proprio economica. Figuratevi una viola antica originale del 1600. Secondo me è di un valore che non si può quantificare come se fosse un'opera d'arte. Cosa è successo? Il 3 gennaio 2018 la signora Herzog pubblica questo post sui social, un post che ha fatto il giro del mondo, allegando le foto che ora vedrete. Sono foto molto importanti perché contengono due particolari che analizzeremo tra pochissimo. Intanto vi traduco. La signora scrive all'Italia odia i musicisti mettendo gli hashtag a destra della parola. Cosa strana perché l'hashtag è molto simile al diesis ma tutti e due si mettono a sinistra della parola o della nota quindi non so perché l'ha messo a destra. Comunque scrive così è come l'Italia mi ha consegnato la mia viola originale del XVII secolo e continua dopo avermi assicurato che sarebbe stata portata a mano nell'aereo e fuori da esso. È stata selvaggiamente vandalizzata e sembra che ci sia passata sopra una macchina. Fino ad ora non ho avuto la fortuna di entrare in contatto con nessun essere umano dell'Alitalia e l'unica risposta che ho ricevuto è che la compagnia non si assume nessuna responsabilità. Poi conclude con per quelli che hanno espresso dubbi che si tratti di Alitalia guardate quest'altro post. Però prima fatemi fare una piccola considerazione. Ovviamente questo post ha subito fatto il giro del mondo perché basta accusare qualcuno e usare dei post carichi d'odio e cattivi che la gente si sbizzarrisce a condividere senza approfondire come capita con le bufale. Le bufale vengono condivise proprio a frotte. Guarda caso quando arriva la smentita chi è che condivide? Tre persone massimo. Ma torniamo a noi. Questo è il secondo post a cui fa riferimento la signora. Questa è la viola da gamba a Lewis prima e dopo il viaggio con Alitalia. Stavolta gli hashtag li ha messi sia a destra che a sinistra così, nel dubbio. E poi scrive qui c'è il documento che mi hanno fatto compilare in aeroporto quando mi hanno informato che lo strumento fosse danneggiato, ma prima che io potessi vederlo. E mette una foto del biglietto del viaggio con Alitalia da Rio de Janeiro a Roma nel caso qualcuno avesse dubbi che stessimo parlando di Alitalia. E poi conclude con questo è il risultato della promessa di Alitalia che lo strumento fosse trasportato solo a mano. Dato che la signora ci tiene tantissimo a ribadirlo, dato che l'ha scritto in tutti e due i post, partiamo proprio da questo. La promessa! In tutti e due i post in cui mostra lo strumento distrutto, la signora ci tiene a sottolineare che le era stato promesso che questo fosse portato a mano sia dentro che fuori l'aereo. La signora non acquista un posto extra per mettere il suo strumento, ma consente a mandarlo estiva, facendosi semplicemente promettere che questo venga caricato e scaricato a mano. Adesso immaginiamo che l'omino dell'Alitalia abbia caricato a mano lo strumento estiva. A questo punto, una volta caricato a mano lo strumento estiva, questo viene lasciato insieme a tutti gli altri bagagli e durante il volo è ovvio che subisca tutti gli urti che subiscono anche gli altri bagagli. Io penso che chiunque stia guardando questo video abbia preso l'aereo almeno una volta nella sua vita. Figuriamoci questa signora che fa tour in giro per il mondo da anni. Quindi quello che mi chiedo io è, secondo la signora era perfettamente normale e sufficiente caricare a mano uno strumento in aereo perché stesse a riparo da tutti gli urti del volo, perché in un volo intercontinentale mica ci stanno le turbulenze, mica quando l'aereo a terra subisce un urto che è tutt'altro che delicato. L'unica cosa che viene da pensare, anche se folle, è forse la signora si immaginava che caricare lo strumento a mano significasse caricare lo strumento a mano, mettersi vicino allo strumento in stiva e tenerlo durante il volo. Così, gratis, rischiando la vita perché lei non aveva voluto pagare l'extrasit. A me pare assurdo fino a qua, non so voi, però aspettate cosa viene dopo. Nel post del 3 gennaio dice che non ha avuto la fortuna di entrare in contatto con nessun essere umano dell'Alitalia, ma anzi l'unica risposta che ha ricevuto è che loro non si assumono nessuna responsabilità. Quindi ha ricevuto la risposta oppure no? Partiamo col dire che lei lo sa benissimo che l'Alitalia non si assume nessuna responsabilità, perché nel momento stesso in cui ha deciso di mandare lo strumento in stiva, ha firmato un documento in cui l'Alitalia non si assume la responsabilità di eventuali danni. Questo lo scopriamo proprio dalla risposta di Alitalia sotto al suo post. Durante il check-in le è stata offerta la possibilità di comprare un posto extra, cosa che lei ha rifiutato, firmando il modulo di scarico di responsabilità, dopo essere stata informata che la soluzione migliore per uno strumento così delicato fosse portarlo con sé in cabina. E comunque, se noi andiamo a prenotare un posto sul sito dell'Alitalia, si legge che è obbligatorio, come scrivono anche loro nella risposta che hanno dato sotto il post. Per i bagagli che eccedono le dimensioni previste per il trasporto in cabina, 8 kg e dimensioni non superiori a 55 cm di altezza, 35 di larghezza e 25 di spessore, come lo strumento musicale in questione, è previsto l'obbligo di acquistare in fase di prenotazione il cosiddetto extra seat, se si vuole evitare di spedire il bagaglio estiva. Circostanza da evitare nel caso di oggetti delicati e o di valore. Nel posto aggiuntivo, normalmente dedicato ai passeggeri, lo strumento può essere infatti messo in sicurezza con una procedura apposita. La signora immagina che una viola del 600 possa sopravvivere a un volo intercontinentale e casualmente si dimentica di aver firmato il modulo di scarico di responsabilità. Si dimentica anche dell'obbligo di acquistare un posto extra per lo strumento che per lei dovrebbe essere la sua vita e con cui da anni fa tour in tutto il mondo. E poi si lamenta perché ovviamente chi avrebbe potuto immaginare che uno strumento del genere così delicato e così di valore si potesse rovinare. Quindi io mi chiedo se la signora non sapeva tutte queste cose durante tutti gli altri viaggi in giro per il mondo come ha fatto? La seconda stranezza è che come si vede nella foto c'è un nastro che tiene chiusa la custodia ormai aperta e distrutta. Fate attenzione a questo nastro perché ne parleremo tra poco. Io non so leggere l'ebraico quindi prendete con le pinze quello che vi sto per dire perché ovviamente non sapendo l'ebraico non posso assicurarvi niente in prima persona però questo signore ha commentato sul nastro c'è scritto in ebraico trovato aperto e richiuso dal dipartimento di prevenzione della criminalità che io tradurrei con dipartimento di sicurezza. Quello che mi fa pensare che questo commento possa essere veritiero è il commento sottostante che dice che questo signore ha ragione. Adesso la domanda più importante di tutto questo caso perché è stata aperta la custodia? Forse è stata aperta da qualche ladro? Forse è stata aperta dai controlli antiterrorismo? Questo non lo sapremo mai ma quello che sappiamo è che tutta questa storia, tutto questo macello poteva essere evitato comprando un extra seat e mettendo questo benedettissimo strumento in cabina. La terza stranezza volendo immaginare per assurdo che uno strumento così delicato possa sopravvivere nella stiva di un aereo è proprio la custodia stessa dello strumento che è una normalissima custodia che si può usare per portare la viola da casa propria alla macchina e niente di più. Quindi oltre a non aver comprato l'extra seat come puoi immaginare di mettere in stiva una viola del 1600 in una custodia da città, in una custodia normalissima? La risposta in questo caso è semplice, bastava comprare un flight case che non è nient'altro che una custodia adatta al volo. Il flight case è una custodia ben diversa da quella usata dalla signora che possiamo vedere nelle foto perché come vedete è intanto proprio diversa e poi ha un'imbottitura molto più presente. Dalle foto che lei stessa ha postato la sua viola del 1600 era contenuta in una custodia normalissima semplicemente avvolta in uno straccio. Ditemi voi se uno strumento originale del 1600 e lo ripeto e lo continuo a ripetere perché è la cosa più importante di tutto questo macello, se si può trattare così uno strumento del genere. Se la signora avesse cercato come ho fatto io su google come imballare una viola avrebbe trovato questa immagine molto esplicativa che è sicuramente migliore di quello che ha fatto lei. Drammatizzo un attimo per farvi capire proprio l'assurdità di tutta questa vicenda. Adesso facendo finta ancora una volta che quella custodia andasse bene e non fosse solo una semplice custodia della città, guardate cosa scrive questo ragazzo sotto il post della Herzog. A idea di quanto faccia freddo in stiva e della custodia usata, lo strumento si sarebbe danneggiato lo stesso. Allora c'è più verità in questo commento che in tutta la Bibbia. Chiunque si sia mai approcciato a uno strumento di legno sa che il legno subisce le temperature troppo calde o troppo fredde, la troppa secchezza dell'aria o la troppa umidità, subisce tutte queste cose e ovviamente si danneggia. E chiunque sia mai andato in un aereo, abbia mai fatto un volo anche di due ore, sa quanto fa freddo in cabina, quindi figuriamoci stiva. Quello che trovo strano, ecco ho sempre trovato strano in tutta questa vicenda e che continuo a domandarmi è come fa una musicista internazionale del suo calibro, con un dottorato in musica, insegnante di conservatorio, come fa a ignorare tutte queste cose. E continuo a ripetere che stiamo parlando di uno strumento antichissimo dal valore storico-artistico inestimabile. Adesso per chiarire un'ultima cosa, io non ho nessun interesse a difendere l'Italia, avrei fatto questo video per qualsiasi compagnia, perché qui non si parla né di accusare l'Italia né di difenderla. Si tratta secondo me di capire perché la signora Herzog abbia lasciato alla distruzione quasi certa una viola del 1600, non comprando né il posto extra né tantomeno mettendola in una custodia adatta. Da musicista devo dire che mi piange il cuore e mi trovate d'accordissimo che tutti i bagagli, anche una valigia piena di mutande, andrebbe trattata in modo molto più delicato. Ma è pur vero che in stiva io non ci manderei nemmeno una chitarra acustica del 2018 pagata 150 euro. Quindi tu che mandi in stiva una viola antica, originale, di legno del 1600, sei un irresponsabile e non dico altro, perché sono anche un tantinello arrabbiata. Perché sia per me, ma penso per chiunque, abbia un minimo di sensibilità per l'arte, per la musica e per la storia, uno strumento simile, tu che ce l'hai, tu che lo suoni, tu che ci lavori, tu che lo insegni, non lo puoi trattare come un pacco di arance, come un pezzo di legno qualsiasi. Per me è un'opera d'arte, ripeto, un'opera d'arte. Ora io spero che quella viola venga riparata, come è successo a strumenti simili dell'epoca. E vi ringrazio per aver visto tutto il video e a questo punto vi invito a condividerlo per fare chiarezza su questa brutta storia. Se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale. Già che ci siete potete fare un giro anche sul mio secondo canale, che vi metto qui, dove ci sono delle canzoni cantate da me. Comunque riguardo a questo video trovate tutti i link delle cose a cui faccio riferimento nell'info box. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!